Primo italiano della sezione ufficiale al Festival di Cannes e l'Ultima Spiaggia sarà l'evento di apertura della Barcolana 2016. Diretto dai registi Thanos Anastopoulos, greco ma residente a Trieste da molti anni, e Davide del Degane, Triestino Doc è una coproduzione Italia-Grecia-Francia con il supporto del Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia e Friuli Venezia Giulia Film Commission FVG. Il film evento cinematografico che sarà proiettato in anteprima in occasione dell'apertura della Barcolana 2016 è stato presentato stamane dall'assessore comunale alla cultura, sport, giovani e servizi finanziari Giorgio Rossi. Il pedocin è un'icona della nostra città e ormai fa parte della nostra tradizione culturale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito per averci offerto l'opportunità di far conoscere Trieste nel mondo in un periodo in cui si sta lavorando molto per il suo rilancio e che richiede uno sforzo e un impegno comune al di là delle ideologie per costruire il futuro dei giovani, ha detto l'assessore Rossi. La Barcolana cresce di anno in anno sul versante culturale e si arricchisce di diversi linguaggi, ha rivelato il presidente Gialuz, nella letteratura con gli autori proposti da Feltrinelli fino alla grande mostra sul vento al Salone degli Incanti realizzata con il contributo del comune di Trieste come anche La Notte Blu dei Teatri di domenica 2 ottobre per arrivare al linguaggio cinematografico che aprirà la Barcolana con un film che racconta in modo originale e singolare di Trieste del mare e della libertà, Buon vento all'ultima spiaggia. Penso che l'ultima spiaggia sia quasi lo standardo di Trieste, ha affermato il direttore D'Antona. Non poteva che essere a Trieste il film sul confine che sottolinea il passato e tutta la complessità di questa città.